buon di fio e buon di tose o buona sera fio e buona sera tose dipende da che ora guardare sto video e buon martedì come andremo spero ben ciao a tutti io sono stene da treviso con furore e con ben ritrovati su stene channel e bentornati a casa stene registro questo video al termine della sfida tra tristina e piacenza che andava a chiudere il quadro delle sfide della terza giornata del girone c e come di consueto a me piace fare il punto sul posticipo del lunedì sera quando mamma rai propone all'interno del suo palinsesto una gara con delle squadre del girone a o del girone b a dirvelo tutto a questo video lo sto registrando ormai in prossimità della mezzanotte quindi vi ho detto buon martedì in apertura che gara ho visto allora ho visto una triestina in difficoltà è un piacenza estremamente sfacciato la squadra di mister bucchi mi ha dato un po un'idea di essere ancora in confusione probabilmente anche per il fatto che nelle ultime ore di mercato sono giunti a trieste altri nuovi elementi che poi sono andati a sostituire altri ragazzi che purtroppo a causa di varie defezioni sono dovuti essere tra virgolette messi fuori rosa e quindi di conseguenza giustamente bisogna dare un po di tempo nuovamente a mister bucchi sta di fatto che però visto il livello di interpreti che c'è a trieste non penso che sia edificante uno spettacolo di questo genere e quindi la mia ripeto vuole essere una considerazione estremamente fatta da una persona neutrale ma con uno spirito di critica costruttivo nel senso che è un peccato visti gli investimenti fatti che la triestina si esprime in questo modo sul rettangolo verde è un qualcosa che è un pochino deprimente non è bello vedere tutti questi lanci lunghi a casaccio una squadra che vive di iniziative da parte dei singoli e che poi soprattutto in questo momento fortunatamente riesce comunque a vivere sui calci piazzati perché se guardiamo bene i 90 minuti la triestina il grosso delle occasioni le ha costruite proprio dai calci da fermo primo gol di rapisarda e nella ripresa le due occasioni la prima di gomez che con un colpo di testa ha chiamato all'intervento il portiere stucchi e dal conseguente calcio d'angolo questa parata è nata un'occasione con una capocciata di volta che ha sfiorato la traversa della porta piacentina ma da lì poi basta il nulla è l'unica vera azione manovrata di tutti i 95 minuti da parte dei padroni di casa guarda caso ha portato al gol di rapisarda tra l'altro una nota di merito per francesco rapisarda che veramente questa sera ha giocato una gara da 10 lode però in campo ci vogliono 10 rapisarda in modo da far sì che ci sia un'inversione di tendenza per quelle che concerne il gioco risultati della triestina non un bravo calciatore e basta che praticamente si carica sulle spalle la propria squadra tra l'altro poi ad essere onesti quando mister buchi ha fatto dei cambi si è visto un qualcosina di meglio soprattutto per quel che concerne la fascia sinistra dove è entrato sto ragazzino galazzi che veramente ha fatto bene personalità grinta determinazione sfacciato al punto giusto ma con testa e quindi penso che sia anche giusto cominciare a puntare su questi nuovi elementi poi per carità ripeto appena arrivato anche lui quindi voleva testarlo probabilmente il tecnico della triestina però si vede che è un cavallo di razza sto ragazzino questo ragazzino avrà futuro perché anche i piedi buoni i cross più interessanti sono partiti da sue iniziative quindi ci sono comunque delle delle note positive non è tutto da buttare è chiaro che comunque la triestina adesso deve cambiare marcia perché padova su tirol provercelli stanno premendo già il piede sull'acceleratore è ora che anche la triestina cominci ad avere un po più di verve perché tutto sommato le possibilità ci sono è che poi di fronte ad esempio ecco ti trovi questo piacenza che per carità non ha fatto queste cose fantasmagoriche però quel poco che ha fatto lo ha fatto bene prendi ad esempio il gol di dubicas anche lì nato questo calcio d'angolo c'è stata una disattenzione difensiva e ne è nato il pari degli ospiti per non parlare poi del 2 e 1 di rabbi c'è questo ragazzino che veramente prende in giro due esperti come volta e lopez che appunto dovrebbero rappresentare la sicurezza in assoluto per la triestina e quindi una sorta di crete dovrebbero creare del timore negli avversari nell'affrontarli arriva questo ragazzino che insomma ci gira intorno come vuole addirittura finta controfinta fa sedere lopez e la butta alle spalle di uffredi cioè fa sedere volta chiedo scusa e la butta alle spalle di uffredi cioè comunque ecco passatemi in termini gli accoglionati di brutto quindi cioè ci sono dei segnali che devono essere assolutamente captati e bisogna porre rimedio tutto quanto perché sennò veramente la tristina rischia di fare un flop e domenica arriva un esame di quelli super tosti perché affrontare la squadra dell'ex ovvero massimo pavanel un allenatore che poi tra l'altro ha rischiato di portare in serie b la triestina dopo quel famosissimo tristina pisa credo che comunque voglia continuare a portare avanti questo ruolino di marcia da parte del padua e quindi l'alabarda dovrà veramente tirar fuori le unghie e i denti e tutte le qualità che possiede per portare a casa comunque un risultato positivo da leugane non sarà facile però su un derby tutto può succedere bene fioi benetose direi che per quel che concerne questo riflesso filmato mi posso congedare tranquillamente qui comunque prima di salutarvi grazie a cuore a tutti e a tutte nessuno escluso perché stane channel ha superato quota 15.561 iscritti e quindi massima gratitudine per voi prima di salutarvi colgo l'occasione per salutare risporto e il mitico chris benci e oltre al grande walter caichelo e quindi dopo questi doverosi omaggi a tre amici semplicemente esemplari direi che vi posso tranquillamente ringraziare per la vostra cortese attenzione e cosa dirve che vi voglio bene stai bene e se vedremo il prossimo video o la prossima puntata di casastene ciao a tutti